Pillola di grammatica italiana. Dopo il quando in italiano possiamo usare sia l'imperfetto che il passato prossimo. Queste due frasi, quando lavoravo in banca e quando ho lavorato in banca, sono entrambe corrette. La differenza tra queste due frasi è la percezione del parlante. Se io dico quando ho lavorato in banca, nella mia mente vedo l'azione come un'azione finita e precisa nel passato. Se invece dico quando lavoravo in banca, nella mia mente io vedo l'azione come imprecisa nel passato, ma soprattutto come continuativa. Quindi entrambi i modi sono corretti, dipende semplicemente dal tuo punto di vista.